Sei serio che riguira amico? Oh e alla fine abbiamo vinto noi questo fight Tutto 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 Oh! 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 No! Come sapete spero come sempre la grandissima Finalmente piano piano mi sto riprendendo E' passato un po' il mal di gola La tosse mi è rimasta ma oggi ragazzi Non vi parlo dei miei mali ma Del motivo di questo video Perché oggi zuccherò con questa tastiera qui Cioè è la tastiera più flessibile Al mondo cioè guardate Cioè guardate giocherò con sta roba qui Per cercare di vincere la partita non so come andrà Assurda come fa ad essere questa la tastiera Perciò direi di non perdere altro tempo Mettetevi super super comodi partiamo per l'interno Cora con la popcorn ed ora si come sempre Let's go! Ah gente ci siamo Proviamo questa tastiera qui Come vedete l'ho piegata visto che è super Flessibile e quindi la posso Un po' modificare come voglio ma Diciamo che i tasti li vedo un po' Non adatti per il gaming eh No ma perché perché si deve aprire Quando è il tablano Quando fa così Quando fa così Eh mo chiuditi però Mo chiuditi Oh 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 No non possiamo iniziare così ragazzi Madò Oh Tutti così Tutti così Tutti così Come l'abbiamo Cioè come abbiamo iniziato qua Al volo Ok Uh Non avevo altre armi Andami qua grazie Campino grazie Mi faccio questo Ragazzi Sei colpi Ok Nessuno mi ha visto Uh Me ne vado Mamma mia ragazzi Me ne vado Oh che cavolo Che rimango lì Almeno che Uh Non posso farmi colpire Non ho più cura Non posso farmi colpire Sei serio Che riguera Amico Boh raga Io prendo e me ne vado Io prendo e me ne vado Uno è lì Ok L'altro è là dentro Non ho capito Se l'ha cecchinato O cosa Oh Amico Sorry Solo otto colpi Credo sia qua sotto Oh Eh Grazie Ma Amico Cioè Sti trucchi Me li conosco a memoria Cioè Quando ero bambino Li facevo anch'io Ragazzi Sette kills In tutto ciò Si ha fatto Sette kills Come What Ok Anche se si blocca Perché Cioè Quando gli dai Troppi combatti Questa tastiera Si blocca Siamo comunque a sette kills Ora faccio un po' di materiale Cerco altre cure E continuiamo Io me la giocherò con calma Con calma Io ci sto provando ragazzi Cioè Siamo già a sette kills Con questa tastiera Che È quasi impossibile giocarsi Andiamo a vedere Mi fermo qua Mi sa che mi faccio il palo Perfetto Ottima scelta Faccio questo Scusami Oh Scildone Come facciamo Ci facciamo Scildone Io parto alle splash Ma le splash Non so Una volta fatto Le splash Le lascio lì Anzi le uso Corcavolo No ragazzi No 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 Ma che Ma what Ok Bastava dirlo Mi sa che siamo morti Ragazzi C'è una lentezza Questa cosa Che Me ne vado Me ne vado Tra le piante Io me ne vado Non puoi saltar Non puoi volar E io me ne vado E io me ne vado Così Non potevo Rimanere lì Con questa tastiera Sarei morto È stato miracolato Che non l'ho trappato Però rischiato Ecco alla fine Sono rimasto Senza sceldini Senza splash Senza niente Non è deciso Cosa prendere Usiamo i rampini Assolutamente Una cosa Io lo aspetto qua Lui dovrà entrare Adesso gli darò fastidio Sì ma non si vede niente Questa tempesta Entrerà prima o poi Lo aspettiamo Ok lo sento Lo sento Sta sparando Non so a chi Non so a dove Colore Ah sì È proprio lui È proprio lui Dove sei? Dove sei? L'ho perso di vista? È lì Non so dove Ok bianco È tempo È tempo di pushare Oh E alla fine Abbiamo vinto noi Questo fight Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Ma doveva andare così Tra l'altro Avevi i buttaran Ragazzi Oh Oh What What E questo da dove? Da dove perché? Ma che spavento Ragazzi Che spavento Mi porto 5 buttaran La prossima volta Gli lancio in testa Che spavento No non ci credo Che abbiamo 9 kills In queste condizioni Cioè se la perdono Ma sono soddisfatto Abbiamo fatto 9 Abbiamo ucciso 9 persone Con questa tastiera qui Che si ferma Ogli 2 per 3 Con calma Con calma Giochiamo con calma La parte difficile È passata Abbiamo sopravvissuti Siamo in 12 Hola Ok niente Ah pensavo fosse un omino Invece era uno zombie sperduto Cerchiamo le personcine Sto abbastanza largo Non voglio sorprese Eccolo la 1 Mi sa che sta girando Ah è a piedi Pensavo fosse con l'overboard Un po' male l'abbiamo fatto Facendo un altro che vuela Si dovrà curare È lì eh Ragazzi ma Ma dal nulla Questi Questi dal nulla Io me ne vado Me ne vado Bello Non ho intenzione Di fightare Questo bovetto Che non sto trovando Né cura di niente Quindi Adio Oh c'è un lama C'è un lama Grazie gioco Che mi vuoi bene Ti ringrazio gioco Che mi vuoi dare Una slurpetta Ma la gente Dov'è Cioè ragazzi Io ero lì Io ero lì E non c'era nessuno Prendo questo Perché i pattarà Non li userò mai Nella vita Con questa tastiera Ora che cambio Da una roba All'altra È finita Allora Torniamo su Mi sento veramente Un botta Camminare con questa tastiera Ma tantissimo Troppo eh Cioè devo stare attento Perché sono nascosti Non so dove Cioè è allucinante Credo stiano flittando La Sì Devo andare È il momento per Prendere Due kills Se riusciamo A vedere Quanto ne abbiamo Ancora 5 Ne abbiamo ancora 5 Ok ci siamo Ci siamo Ci siamo Sto scendendo Sono tutti Due qua sotto Ok uno L'altro dov'è? Uno l'abbiamo fatto L'altro dov'è? Deve essere qua sotto Da qualche Toro su Oh Volevo con lo scar Assolutamente Ah poi Spacco qua E prendo la giampa Dove sei bro? Stato c'è un'altra giampa Prendo tutto 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 Oh 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 No What the hell bro What the hell bro No me ne vado Me ne vado Me ne vado Ma che infarto Ma che era lì sotto? Ma era veramente lì sotto? Che infarto Che infarto ragazzi Oh Mio Vedere sono troppo curioso Sono troppo curioso Oh Il vantaggio è che io ho i rampini Quindi volendo mi rampini E vado Tipo adesso Mi rampino E vado E lo aspetto qua dentro È la mia Fortezza No E niente Era destino Era destino No 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 Avevo fatto 10 kills No Vabbè ragazzi Ah È difficilissimo Io Spero che vi siate divertiti E mi ha fatto comunque 10 kills Con questo Robo qui Con questa Tastirina Qui Cioè Com'è possibile Com'è possibile Comunque io Ora vi saluto ragazzi Ci vediamo domani Sempre qua con Un altro video sul canale Forse Domani Se i giorni sono un po' Un po' male così Comunque ci vediamo Sempre qua sul canale Fate così bravi Ci via ragazzi Ciao Ciao